Mi chiamo Giuseppe, sono di Bologna e ho 64 anni. Le cose andavano bene, non mi mancava nulla. E un amico di infanzia, anche lui salito al nord per lavoro, mi ha parlato del suo problema con la casa. In pratica voleva accendere un mutuo per acquistare una casa nella quale andrà a vivere con la moglie. Ma la banca non glielo concedeva perché non aveva le sufficienti garanzie. Siamo cresciuti insieme e io ho deciso di fargli da garante per far sì che potesse realizzare il suo sogno familiare. E così firmai per il suo immobile a Sassomarconi, luogo di origine della compagna. A qualche mese dalla firma, ecco la telefonata della banca che mi avvertiva che ben otto orate non erano state pagate. E che dovevo provvedere io a saldare il debito. Avevano non so bene come tutti e due perso il loro lavoro. Ho fatto un fido e nel frattempo i due continuavano a vivere in quella che a tutti gli effetti era la loro casa. Hanno iniziato a non rispondere più alle mie chiamate e io a dover vendere tutto quello che avevo per pagare i debiti. Ma non bastava e tutto è precipitato. Ho usato il mio TFR, ho fatto tutto quello che potevo e alla fine sono finito in mezzo a una strada. Grazie a tutti.